126 giorni per rifare via Vincenzo Russo e piazza Marco Polo a Pecorari di Nocera Superiore è quanto prevede il progetto avviato dall'amministrazione comunale del centro dell'agro una prima pietra con la presenza degli alunni della vicina scuola che grazie all'intervento potranno contare su nuovi spazi di ritrovo oltre che su un'area pedonale Affidati all'impresa Felco, i lavori prevedono la ripavimentazione con materiali di pregio la videosorveglianza, l'illuminazione pubblica secondaria e l'arredo urbano con una chiusura provvisoria al traffico su via Napoli previsti anche interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche Andiamo a realizzare uno spazio di aggregazione che prevede un chiosco uno spazio verde per le famiglie, per i bambini, per quanti vivono questa parte della nostra città e non solo, oltre ad un'area di parcheggio alle spalle della scuola Marco Polo questo è un primo step di un più grande intervento che prevede la sistemazione di tutta la strada di via Vincenzo Russo con la realizzazione di altre tre aree di parcheggio Il cronoprogramma, l'impresa, ha da contratto quattro mesi di lavoro noi contiamo di poter quantomeno arrivare in prossimità di San Pasquale Bailon per poter avere questo spazio nuovo da destinare alla città L'idea di questa progettazione è stata quella di rimediare alla carenza di urbanizzazioni che lungo il territorio purtroppo esistono per errori del passato e quindi tentiamo di dare anche su una arteria principale come questa un punto centrale di socialità e di incontro Grazie mille! Grazie mille!